Buongiorno a tutti, non so se ci conosciamo tutti, mi chiamo Angelo Vitale e sono un autore di questo libro, nonché un insegnante di una tecnica di fisica quantistica, chiamiamola così, anche se è un po' più riduttivo di chiamarla così, elaborata da un fisico russo che si chiama Grigori Graboboi, che è un fisico chiaroveggente che in questi ultimi 15 anni ha elaborato un insegnamento molto corposo per aiutare l'umanità a fare un salto evolutivo e dirigersi verso un prossimo livello di coscienza dove non esisteranno più alcuni elementi evolutivi che ci siamo portati fino adesso qua, come per esempio l'invecchiamento, la morte e così via. Questi sono i due principali elementi importanti della tecnologia. Questo libro nasce da un'esigenza mia personale. Io faccio il regista e quando faccio il regista, quando faccio dei programmi televisivi per esempio, la cosa che mi preoccupa di più nel momento in cui io creo qualcosa, è creare qualcosa che possa essere compreso da tutti. In televisione un programma funziona quando tutti lo capiscono e tutti lo accettano, tutti ne capiscono il linguaggio. Quando un programma ha dei buoni ascolti è semplicemente perché è arrivato a tutte le persone, a un numero maggiore di persone. Gli insegnamenti di Gregorio Grabovoi sono insegnamenti che hanno una struttura linguistica molto elaborata perché essendo Grabovoi un fisico, essendo Grabovoi un chiaroveggente, essendo Grabovoi una persona che ha una struttura spirituale molto elevata a livello di coscienza, il linguaggio con cui lui traduce queste informazioni che riceve dalle dimensioni superiori è un linguaggio abbastanza complicato. Ci sono dei suoi libri in giro che si possono trovare e che cominceremo piano piano a tradurre in italiano che hanno un altissimo livello di difficoltà. E quindi io che ho cominciato a fare l'insegnante, che ho cominciato a fare lo studioso di questi libri e ne ho percepito un po' la difficoltà a livello linguistico, a livello narrativo, ho sentito l'esigenza come insegnante di tradurre un libro con una terminologia che potesse essere accessibile a tutti. perché non tutti quanti hanno, non dico la cultura perché non è una questione culturale, non tutti hanno il livello di coscienza così profondamente strutturato da comprendere il linguaggio dello spirito. Io sono uno studioso di Rudolf Steiner, quando ero piccolo ero molto attento e molto partecipe alle sue opere. Leggevo spesso e volentieri Rudolf Steiner e mi è capitato anche per un certo periodo di tempo di canalizzare Rudolf Steiner che mi mandava dei messaggi per farmi capire che cosa avesse detto nel libro, per esempio sulla via dell'iniziazione, facciamo un esempio, o sulle manifestazioni del karma che è un libro molto complicato. Io vedo in Grabovoi, diciamo, lo stesso livello di esposizione. Entrambe sono due autori con capacità, intenzioni e missioni diverse, però sono due autori che nel momento in cui scrivono qualcosa, la scrivono trasmettendo un linguaggio dello spirito. James Joyce, un autore inglese, ha scritto un libro che si chiama La veglia di Finnegan, secondo un sistema che si chiama flusso di coscienza, quindi un libro dove c'erano tradotti in un'avventura emotiva tutti i pensieri, anche un po' a livello sconclusionato del protagonista che scriveva, che pensava, 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 pensare senza nessun esso logico, apparentemente. Diciamo che la lettura di Grabovoi ha questo livello di difficoltà e allora potrebbe non essere una lettura che è indirizzata verso le masse, verso il maggior numero di persone possibile. Invece in questo momento è proprio importante che questa tecnologia venga diffusa il più possibile, perché questa tecnologia utilizzata già soltanto a livello del pensiero, cioè già soltanto con la consapevolezza della sua esistenza e con la sua comprensione, struttura il nostro livello di consapevolezza e di coscienza ad un livello che ci permette, adesso fra un po' vedremo come, ci permette di far fronte a questo salto evolutivo importante. Quando noi comprendiamo qualcosa, non necessariamente soltanto di Grabovoi, ma proprio della vita in generale, anche quando uno parla con un amico e questa chiacchierata gli fa capire una cosa, succede una cosa importante del nostro corpo. Il nostro corpo nel momento stesso in cui capisce qualcosa emette una quantità di fotoni luminosi, poi questi fotoni non si vedono, però se noi attaccassimo il nostro corpo ad una macchina, che non esiste, però facciamo finta che esista, se attaccassimo il corpo ad una macchina che misura la quantità di fotoni che emette il nostro corpo e venisse registrata in quel momento l'emissione di fotoni relativa ad una comprensione da parte nostra di qualcosa, vedremo che questo corpo fa come un rad, come emette un'onda. Questa onda di luce è un'onda di luce molto importante perché normalizza il nostro corpo fisico e normalizza tutti gli eventi della nostra vita. Quindi una comprensione il lunedì fa emettere un tot di luce, una comprensione il martedì fa emettere un tot di luce. Immaginate che cosa sia un livello di comprensione costante, c'è un livello di comprensione lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e così via, 24 ore al giorno. Questa cosa non solo normalizzerebbe tutte le nostre cellule, e adesso ci arriviamo a capire perché, ma normalizza anche l'ambiente circostante, contribuendo a portare il nostro sistema della realtà ad un livello più alto di consapevolezza. Allora, quando noi guidiamo la macchina, possiamo fare una scelta? Possiamo dire, io sto guidando a Via Torino, oppure sto guidando sul pianeta. Cioè, sentirsi guidare sul pianeta, sentire che stiamo guidando sul pianeta è ben diverso da sentire che si sta guidando a Via Torino. Questo livello di comprensione, cioè questo livello di percezione, è molto importante per far sì che l'acqua delle nostre cellule si ricambi di una informazione che è basata sul principio dell'esistenza del macrolivello, che è il pianeta in cui viviamo. Nel momento in cui noi teniamo presente il macrolivello, o in ogni cosa che facciamo, teniamo presente il fatto che noi siamo cittadini del pianeta e non abitanti di San Siro, facciamo un esempio, la nostra coscienza fa un salto di qualità, emette luce e si espande. Nel processo di espansione di questa coscienza succedono delle cose anche a livello biologico. Cioè, il nostro cervello si rigenera, contrariamente a quanto diceva la signora Leviti Montalcini, si rigenera di tutti i neuroni che in quel momento erano disattivati. Rigenerandosi il cervello manda degli impulsi al corpo, voi sapete che ogni area del cervello è collegata un organo, no? C'è un'area del cervello collegata al fegato, un'altra collegata alla milza, un'altra collegata al sistema linfatico e così via, no? Nel momento in cui i neuroni si riformano grazie all'apprendimento, alla comprensione, a questa emissione di luce, tutto quello che succede nel periodo successivo è che tutti i nostri organi risentono di questo nuovo flusso di informazioni. Quindi il nostro fegato comincia a rigenerarsi, le cellule della milza cominciano a rigenerarsi. Per esempio la milza è l'organo del nostro corpo che decide la nostra forma fisica, è la nostra milza che decide se siamo magri o ciccioni. E quindi diciamo che quella cosa lì, quella decisione però, viene da una parte del cervello che può essere nella norma o fuori della norma, che ha un livello di frequenza che emette, perché il nostro cervello emette frequenze costantemente, quindi quando emette queste frequenze nella norma anche i nostri organi ne risentono. Allora perché dico queste cose? Perché nel libro voi troverete tutto uno schema di base che fa parte, diciamo, della comprensione necessaria a capire come è fatto il nostro corpo. Cioè il nostro corpo è fatto di anima, spirito, coscienza, percezione, intelletto e corpo fisico. Non è soltanto il corpo fisico, il corpo fisico ospita tutti questi elementi. Nel momento in cui noi apprendiamo per esempio la nostra struttura, quando noi scopriamo come siamo fatti, il nostro corpo fa una specie di festa, perché in quel momento lì si avvicina ancora di più al livello di comprensione dell'anima e dello spirito. Invece quando una persona vive in un modo che è fuori norma, l'anima comunica delle cose al corpo, ma il corpo non le sente, perché in quel momento lì la coscienza non è attivata, cioè non è espansa, non è strutturata. Quindi con l'apprendimento della tecnologia, non solo con l'apprendimento, anche con gli esercizi di pilotaggio, però basta anche soltanto l'apprendimento, dice Grabovoi, lo dice, lo spiegheremo bene nel secondo volume, ma Grabovoi dice che già soltanto la conoscenza della tecnologia, già di per sé è veicolo di cambiamento del corpo fisico e normalizzazione degli eventi della propria vita e quindi anche del pianeta. Quindi che succede? Nel momento in cui noi capiamo come è fatta l'anima, la nostra coscienza si espande, cioè cresce come se aumentasse di volume, non è così, però diciamo come se aumentasse di volume. Man mano che aumenta di volume, aumenta di volume e quindi ospita con più comodità le informazioni che l'anima manda alla coscienza. Man mano che questo processo si sviluppa nel corso della vita di una persona, questa comunicazione fra anima e coscienza avviene simultaneamente, non è più separata come è successo fino ad adesso, ma da ora in poi avviene simultaneamente e questa cosa qui funziona a livello cellulare, cioè questo meccanismo si manifesta soprattutto a livello cellulare, prima di tutto con il ringiovanimento. Il ringiovanimento non deve essere considerato come una cosa soltanto per vecchi, perché non è così. Il ringiovanimento non è un processo soltanto di tornare più belli, con una pelle migliore, gli occhi più luminosi, quello è una cosa che avviene, però il ringiovanimento avviene principalmente a livello cerebrale, quindi quando il cervello si ringiovanisce il nostro livello di adattabilità all'ambiente, che è la prima cosa che si perde con gli anni, ritorna a quello di un giovane, di un essere umano che noi definiamo giovane, perché in realtà nell'insegnamento su Dio, lo vedremo nel secondo volume, nell'insegnamento su Dio si vede come funziona questo meccanismo, cioè noi siamo infatti a immagine e somiglianza di questa luce creatrice della realtà, che noi chiamiamo Dio in questo pianeta, noi non si chiama Dio, si chiama luce creatrice della realtà, l'abbiamo chiamato noi Dio, noi abbiamo quella struttura identica, nel momento in cui noi utilizziamo il pilotaggio, quindi comprendiamo la tecnologia per la vita eterna, noi stiamo utilizzando il livello di comprensione di Dio, ma Dio non si vede vecchio né giovane, si a Dio non ha problemi di età, come non ce li dovrebbe avere l'essere umano, il prossimo livello evolutivo è proprio quello di saltare la percezione dell'età, noi stiamo entrando dentro un livello evolutivo in cui la vecchiaia non ha più motivo di esistere, ci sono tante persone in Russia per esempio che seguono Grabovoi da tantissimi anni, noi abbiamo cominciato da poco in Italia, però Grabovoi ha cominciato a fare conferenze nel 1998 e lì lui ancora guariva le persone, adesso non lo fa più, però ci sono delle persone che hanno seguito i suoi insegnamenti, per esempio persone anche di 74 anni che sono tornate a casa dopo seminari e dopo alcuni periodi di studio, molto ringiovanite, ma anche di 30 anni, c'è una testimonianza, la potete andare a vedere su Youtube, di una moglie che ha visto partire il marito per andare a fare dei seminari, il marito è stato via per un po' di tempo, quando è tornato aveva proprio 30 anni di meno e lei è rimasta molto sorpresa da questa cosa qua e questa cosa è successa a molte persone in Russia, perché io non so se la percezione di quanto per me sia normale a voi vi sembri così strana, però io ormai ho capito come mai funziona questa cosa, come mai si verifica questa cosa, perché le nostre cellule contengono acqua, quest'acqua contiene delle memorie, tutte le memorie nostre, delle nostre vite passate, presenti e anche future, perché a livello potenziale le nostre cellule sanno anche quello, quest'acqua può essere costantemente ricambiata nella sua struttura informativa tramite l'intenzione umana, l'intenzione umana, cosa tra l'altro fino a qualche anno fa molto sottovalutata, ha un livello di potere energetico mostruoso, altissimo, quindi già soltanto la consapevolezza che io posso modificare la struttura informativa delle cellule e togliere per esempio un virus da una cellula inserendo un'altra informazione, proprio semplicemente come lo dico, uno si concentra e comincia a entrare in uno stato di comunicazione cellulare per il quale le cellule ricambiano la loro acqua, cioè la cellula quando si difende è chiusa, cioè quando c'è paura, quando c'è una malattia, quando tu entri in uno stato consapevole di intenzione basato su delle informazioni concrete, la cellula si apre e rilascia l'acqua che c'è e noi utilizziamo questo procedimento per eliminare le tossine, identico, cioè quando noi sudiamo per esempio in una sauna, le cellule non fanno tanto che aprirsi e cambiare l'acqua, ma nel momento in cui si aprono l'acqua che gli rientra dentro è un'acqua che è informata del nostro livello di pensiero, del nostro livello di coscienza, attraverso lo studio diciamo della tecnologia, tutto questo meccanismo avviene inconsapevolmente, cioè indipendentemente che noi ci proponiamo il problema o no, cioè questa guarigione, diciamo così, questa guarigione spirituale, chiamiamola per adesso in questo modo, avviene nello stesso momento in cui noi comprendiamo il capitolo 3, perché questa struttura qui è come se ci venisse data una informazione su come eravamo, quando noi pensiamo a noi stessi per esempio, noi pensiamo a noi stessi non all'età che abbiamo, cioè pensiamo anche all'età, però quando noi pensiamo a noi stessi, pensiamo a noi stessi da sempre, ci avete fatto caso? Da sempre, cioè quando uno va allo supermercato, va a cena dei amici o va in vacanza o esce a fare una passeggiata, ha la percezione di se stesso da sempre, cioè non c'è un tempo, la consapevolezza di quel da sempre è una tecnologia di ringiovanimento e questo lo troverete qua in questo libro, questa percezione di noi stessi come persone che conosciamo da milioni di anni, è una tecnologia che serve per il ringiovanimento e per la guarigione degli organi, nel momento in cui noi adattiamo il nostro cervello ad un sistema informativo basato sulla consapevolezza della struttura dell'essere umano, secondo il criterio con cui l'essere umano è stato veramente creato, lì è stato svelato un segreto gigantesco, perché noi abbiamo cercato fino adesso di capire che cosa fosse la coscienza, di capire c'è qualcuno che si è specializzato sull'anima, c'è qualcuno che si è specializzato sullo spirito, c'è qualcuno che si è specializzato sulla coscienza, c'è qualcuno che si è specializzato sulla metafisica, c'è qualcuno che si è specializzato sulle tecniche per cercare di capire certe cose, adesso siamo arrivati a un momento in cui per esempio attraverso questa tecnica tu hai tutta l'informazione in un secondo, tutta questa informazione è tutta lì, una volta che hai capito come funziona la tua struttura, nel momento in cui tu metti quella comprensione nella realtà, la realtà si modifica, noi abbiamo nel nostro corpo, quelli che noi chiamiamo corpo eterico, corpo astrale, laura, tutte queste cose sono contenute in un guscio, secondo Grabovoi, questo guscio si chiama scafandro microelettronico quantistico, microelettronico quantistico, l'ha chiamato lui così, non so perché, non c'è neanche una spiegazione nella troverete da nessuna parte, neanche su Google, però lui lo chiama scafandro perché non scafandro, è questo microelettronico che nessuno riesce a capire quantistico perché agisce in un certo modo che adesso spieghiamo. Tutto l'insieme della collettività umana forma insieme a tutto questo scafandro un altro scafandro, cioè quello della collettività umana, che si chiama scafandro macroelettronico quantistico, quindi lo stesso scafandro che però contiene tutti gli esseri umani. Poi tutto l'insieme di questa collettività umana fa parte di un altro scafandro molto più grosso, che forse non ha neanche una dimensione in realtà, che viene definito gas elettronico globale. Il gas elettronico globale si può definire come l'universo infinito, facciamo un esempio, no? Nel momento in cui noi capiamo qualcosa, nel momento in cui la nostra coscienza emette luce, come dicevamo prima, questa luce influenza non solo il nostro scafandro microelettronico quantistico che diventa più ricettivo, più potente, ma influenza anche quello della collettività, perché il livello di ricezione, cioè questa radio che percepisce queste onde luminose, è la stessa radio sia per il singolo, che per la collettività, che per l'universo. Quindi nel momento in cui noi decidiamo di agire in un certo modo, a volte le persone dicono vabbè ma a me, io faccio così, ma tanto chi se ne accorge? Invece no, se ne accorgono tutti, compreso tutto l'universo infinito. Cioè ogni nostra impronta, ogni nostra azione, ogni pensiero, di qualsiasi natura esso sia, finisce in questa radio e viene captato da queste stazioni che sono piccole nell'essere umano, medie nella collettività, grandi nell'universo infinito. Quindi ogni nostra azione influenza necessariamente tutta la realtà, tutta la realtà. Quando noi invece pensiamo di agire come singoli e ci comportiamo e agiamo nella nostra vita quotidiana come se noi facessimo parte solo di un piccolo microsistema, noi in quel momento lì stiamo dicendo alla nostra coscienza di chiudere quella luce ad un livello di onde luminose molto basso. Se invece noi tenessimo presente questa cosa che dicevamo prima, cioè di guidare nel pianeta, tutte le cose che noi facciamo, anche le più apparentemente le più insignificanti, hanno comunque un impatto sulla struttura della realtà esterna. E noi possiamo addirittura decidere di fare il passo inverso, cioè di utilizzare la struttura della realtà esterna per migliorare la nostra vita, cioè quindi per normalizzare il nostro corpo, quindi il nostro corpo biologico e normalizzare tutti gli eventi della nostra vita che sono sociali, emotivi, affettivi, psicologici fondamentalmente. Quindi noi possiamo, come si fa? Si tiene presente l'esistenza del macro livello, cioè quando noi decidiamo per esempio di trovare un lavoro, c'è un esempio, nel momento in cui lo desideriamo, dobbiamo collegare questo desiderio al fatto che nel momento in cui tu hai trovato un lavoro e sei soddisfatto, anche il mondo ne sta beneficiando. Io a poco tempo fa a un seminario ho fatto un esempio, mettiamo che ci sia una famiglia, padre, madre e due figli. Diciamo che tutti quanti fanno il loro dovere, tranne il figlio che è un po' uno scapestrato, no? I genitori un po' sono dispiaciuti del fatto che il figlio è un po' scapestrato. Quindi diciamo che tutte le azioni, invece il bambino, il figlio, pensa di essere nel giusto, fa quello che deve fare, punto. Ma il macrosistema di quella famiglia, cioè quindi tutti gli elementi di quella famiglia, tutti i componenti di quel nucleo familiare sono dispiaciuti perché lui è un po' scapestrato. Nel momento in cui questo ragazzo decide di cambiare, nel momento in cui decide di migliorarsi e di dedicarsi ad un livello di vita più adeguato, più sano, più nella norma, più, insomma, migliore da un punto di vista personale, soprattutto, perché non è che c'è un modo di vivere degli altri che per noi è giusto, quello che è giusto per noi stessi è giusto, quindi lui decide di fare un salto di coscienza e migliorarsi. Questa cosa si riflette positivamente chiaramente su tutti i componenti della famiglia. Nel momento in cui noi guardiamo da una malattia o abbiamo un beneficio di qualsiasi tipo, ne beneficia anche tutta la famiglia che fa parte del mondo. Quindi non è soltanto legata a noi stessi la realizzazione di noi stessi, è legata anche alla realizzazione di questa famiglia che si chiama pianeta Terra. Nel momento in cui però noi con il nostro cervello attingiamo, rubiamo un po' di energia al mondo per migliorarci, il meccanismo funziona lo stesso, cioè è soltanto fatto un meccanismo, è soltanto agito all'opposto. Io posso dire, siccome il mondo beneficerà della mia esistenza se io fossi più ricco, facciamo un esempio banalissimo, perché molte persone sono alla ricerca dei soldi, quindi facciamo finta che io sto cercando un'abbondanza e dico, io non solo voglio diventare ricco perché mi voglio comprare una macchina, ma voglio diventare ricco perché l'abbondanza, che è comunque un sintomo di benessere in questo pianeta, fa di me una persona felice, una persona felice fa di me il mondo felice, cioè fa del mondo un posto migliore. Il mondo, secondo voi, è meglio con delle persone sane o con delle persone malate? Con delle persone sane. Quindi è per questo che noi possiamo attingere a questo pensiero costante per migliorare il nostro stato biologico. La chiave di lettura di questo libro è però di due tipi. Il primo, la prima chiave di lettura è questa della comprensione logica di cui parlavamo prima ed è quella di cui abbiamo parlato adesso. La seconda chiave è la chiave di lettura dell'anima. La nostra anima è una struttura, qui è analizzata molto bene, c'è anche la forma dell'anima, ci sono degli esercizi con l'anima, insomma c'è un sacco di… ci sono tantissime informazioni. La nostra anima è una struttura fatta a immagine e somiglianza del creatore, cioè di questa luce creatrice di questo mondo eterno. L'anima in realtà sa già tutto, non avrebbe bisogno di niente, non avrebbe bisogno di nessuna informazione. Quello che noi facciamo è nutrire il nostro corpo biologico per far sì che acquisti un maggior numero possibile di informazioni per avvicinarsi poi a livello informativo che ha l'anima. Ma tutto quello che noi non capiamo oggi lo capisce l'anima. Per esempio, nella conversazione che mi ha fatto adesso, io non vi ho detto tutto, cioè io non vi ho detto neanche il contenuto del libro e questo contenuto del libro non è neanche un decimo dei libri che ha scritto Krabbovoi, quindi il contenuto di questa tecnologia è veramente vasto. Eppure in questo momento si sta verificando un fenomeno, cioè che attraverso l'emissione di luce della mia coscienza io faccio quello che posso, ma la vostra anima sta recependo anche tutto quello che io non vi ho detto. Quando noi studiamo questo libro non importa se ci sono dei concetti che non capiamo. Perché in quel momento lì c'è una struttura dell'anima che sopperisce a qualsiasi carenza intellettuale che si verifica in quel momento. Per questo che molte persone per esempio hanno un po' l'angoscia di dover comprendere a tutti i costi, capire, 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 capire. E invece nella spiritualità, nella metafisica, secondo me questo meccanismo può essere un problema. Io ho imparato a fidarmi della struttura di comprensione quella più profonda e dico questa cosa non la capisco, ma c'è qualcun altro che la capisce al posto mio. Poi magari il giorno dopo, se io lascio spazio a questa comprensione, la parte che ha capito questa informazione, indipendentemente dalla mia volontà di quel momento, mi manda dei flussi di informazione tali per cui io riprendo il libro in mano, rileggo un'altra volta quel concetto e questa volta lo capisco. Quindi diciamo che anche se trovate dei concetti che sono un pochino più strutturati da un punto di vista spirituale, se in quel momento lì c'è un problema di comprensione, andate avanti lo stesso. La cosa importante è prendere il libro come uno strumento per normalizzare il proprio corpo e i propri eventi. Io conosco una persona che aveva dei problemi alla cistifellea, poi ha comprato questo libro ed è successo veramente così, tanto credo che fra un po' metterà anche la sua disponenza su Facebook. Questa persona ha capito delle cose di se stessa, leggendo questo libro, ha capito in particolare la comprensione della struttura dell'anima, gli ha fatto capire questa cosa e lei è guarita da questa cosa la cistifellea nelle due o tre settimane successive, ha visto che aveva una gestione migliore, che non aveva più pesantezza, insomma adesso lei ha detto guarda io adesso sto bene, non sono neanche andata dal medico ma mi sento proprio che mi sente più leggera. Quindi cosa ha fatto la coscienza sua? Ha messo la quantità di luce, la quantità di luce va a normalizzare esattamente quello che c'è da normalizzare in quel momento, indipendentemente dalla nostra volontà, cioè la luce va a illuminare il buio, quando uno entra in una stanza e accende la luce, illumina il buio, quindi cosa fa? La coscienza sua emette i fotoni luminosi e normalizza magari il rapporto con un zio di Napoli che noi non vediamo da vent'anni e che ha una struttura karmica che a noi invece ci serve per poter risolvere delle cose in questa vita. Allora noi che non ci preoccupiamo più di quello zio perché non lo sentiamo da vent'anni ci avvenza l'anima, ci avvenza la coscienza, emettendo una quantità di fotoni luminosi necessaria a normalizzare quello che serve di essere normalizzato. Questo è un'altra chiave di lettura di questo libro, ma la cosa più importante è che questi due grossi meccanismi, questi due macro meccanismi portano alla vita eterna, cioè la vita eterna è un concetto che per adesso è stato esposto solo dalla Chiesa Cattolica, perché comunque il concetto di immortalità è una cosa di cui maggiormente ha parlato la Chiesa Cattolica. Invece Grabovoi dice che esiste un prossimo livello evolutivo, che tra l'altro comincerà nel 2017, grazie al quale le nostre cellule potrebbero smettere di invecchiare e noi potremmo addirittura decidere di non morire più. Questo fa parte sempre del libro di arbitrio personale, ci sono persone che non si trovano bene in questo corpo, che hanno, e dicono io non mi interessa, non voglio vivere eternamente, voglio morire e rinascere in un altro corpo facendo un'altra esperienza e quelli continueranno a esistere. Ma ci saranno delle persone che diranno io voglio fare questa esperienza dell'eternità e il loro invecchiamento comincerà a fermarsi. Nel momento in cui si ferma questo invecchiamento, si ferma l'invecchiamento anche di tutto l'entourage affettivo, perché è un'onda luminosa che influenza anche tutte le persone circostanti. Contrariamente a quanto dice la letteratura cinematografica che ha fatto di Highlander un povero disgraziato che si annoiava tantissimo perché tutti morivano vicino e lui era immortale. Infatti quando faccio i seminari la prima cosa che la gente mi dice è, ma io se divento immortale che faccio? Ma no, io muovere mia moglie, mia sorella, la mia fidanzata, tutte le persone vicino. Però non è che funziona proprio così, cioè noi quando si verifica questa emissione di luce, questa emissione di luce guarisce anche veramente l'entourage affettivo vicino. C'è una cosa di fisica, un meccanismo di fisica quantistica che si chiama effetto Maharishi, lo avete sentito? Che al cambiamento interiore di un individuo corrisponde il cambiamento delle sei persone più vicine a livello affettivo e questa cosa qui a livello esponenziale diventa per tutti. Quindi diciamo che è possibile in questo momento sperimentare il rallentamento, cominciamo a parlare di rallentamento, poi quando avremo la sconscienza più strutturata diremo interruzione. È possibile parlare di rallentamento delle cellule e è possibile rimandare la morte di tanto, 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 tanto tempo. È possibile adesso. Non è possibile soltanto perché c'è un meccanismo magico che ci fa diventare eterni, è un meccanismo logico deduttivo che ci fa capire che possiamo diventare eterni. Perché se noi siamo in grado di poter modificare la struttura informativa delle cellule, il nostro DNA continuerà a replicare cellule che hanno questa nuova struttura informativa. Sapete che le cellule si sdoppiano, no? 2, 4, 8, 16, 32, 64, cioè secondo una sequenza binaria. Fino all'incirca 25 anni il nostro DNA replica le cellule che avevamo alla nascita. Quindi fino a 25 anni abbiamo una struttura diciamo genetica che è simile, identica, non simile, cioè la stessa struttura genetica di quando eravamo nati. Quando noi superiamo i 25 anni, cioè questo per la medicina genetica, adesso però il discorso cambia un pochino. Dopo 25 anni il DNA comincia a replicare le cellule del 25esimo anno. Quindi a 25 anni replica quelle di quando abbiamo 25 anni, a 26 di quando abbiamo 26 anni. Solo che siccome la sequenza binaria, la maggioranza di cellule, diciamo invecchiate, diciamo così, è maggiore. Quindi che succede che noi ci invecchiamo per questo? Cioè ci invecchiamo anche per un altro motivo, ma ci invecchiamo fondamentalmente perché noi abbiamo un DNA che replica quel sistema cellulare di quel momento. E poi c'è un altro motivo per cui noi invecchiamo. Nella nostra cellula ci trovano dei mitocondri, che sono i nostri motori, è il motore con cui noi produciamo energia. Però come per una macchina per esempio, come per un'automobile, la benzina che tramite la combustione produce energia, nel motore si verifica la combustione della benzina che produce energia e il motore può andare. Questa è una cosa bellissima perché a noi ci fa vivere, è come nella macchina, la fa andare in autostrada, però la conseguenza è che questo motore si invecchia. Grazie a questo fenomeno di combustione dell'energia che i mitocondri fanno all'interno delle cellule, il nostro corpo inevitabilmente dovrebbe invecchiarsi perché è come un motore di una macchina che passa il tempo e poi si invecchia. Noi invece possiamo adesso, tramite le tecnologie di Grebovoi, sovvertire questo processo e possiamo decidere che i nostri mitocondri vengano replicati nella stessa sequenza di come quando eravamo nel feto addirittura, o anche prima se vogliamo. Comunque è un momento in cui i nostri mitocondri si trovavano ad un livello energetico di estrema perfezione. Quindi questa cosa qui porta inevitabilmente il nostro corpo ad uno stop biologico. Perché se noi cominciamo a produrre lo stesso livello cellulare di quando avevamo 18 anni, per esempio, anche avendone magari 60, il nostro corpo subisce uno shock enorme in senso positivo perché gli viene data alle cellule una ventata di freschezza che prima non aveva. Il nostro cervello riconosce quella ventata di freschezza e grazie al sistema del pilotaggio, cioè quindi al sistema dell'informazione, modifica il suo livello di adattabilità a quel nuovo sistema cellulare. E noi cominciamo a comportarci, questo lo vedrete, perché a me mi è successo esattamente così, io ero stanco, soffrivo di stanchezza cronica. Poi piano piano facendo i pilotaggi questa stanchezza è passata, soprattutto nel pomeriggio avevo moltissima stanchezza e adesso questa cosa qui è svanita nel nulla. Non è che mi comporto come un ragazzino, nel senso che non è che faccio le cose di un ragazzino, cioè io sono 48 anni quindi faccio quelle che devo fare. Però vedo che quando arrivo a casa la sera o quando mi metto davanti alla televisione prima di andare a dormire, c'ho una energia, è come una freschezza molto giovanile che non è legata all'età, è energia. C'è l'energia, o c'è o non c'è. Quando c'è bisogna vedere in che quantità si manifesta. quella che io sento addosso a me dopo quattro anni diciamo di pilotaggi è molto molto diversa da quella che avevo quattro anni fa. Questo è un fenomeno possibile per tutti, indipendentemente dall'età, dalla condizione biologica, indipendentemente dalla fiducia che uno ha in questo processo, indipendentemente dall'incredulità che c'è in questo processo. Se uno legge questo libro e capisce quali sono i sistemi con cui il nostro corpo organizzato e con cui il nostro corpo organizza se stesso all'interno della realtà, questo fenomeno avviene automaticamente. Ma non solo questo libro. Questo libro è un punto di partenza per fare in modo che nel cervello si strutturi un livello di informazione tale che ringiovanisca tutti i neuroni per fare in modo che si instauri questo meccanismo di ringiovanimento. Un meccanismo di ringiovanimento che poi porta a questo stop biologico. La cosa importante è provare a pensare come penserebbe una persona estremamente sana, estremamente vitale, estremamente energica, estremamente felice, estremamente ricca, estremamente piena di relazioni appaganti. Cioè noi proviamo a fare questo esercizio di pilotaggio, ogni giorno portiamoci appresso un ologramma di una persona realizzata. C'è anche una sequenza per la personalità autoralizzata, se volete ve la dico, 191317481901. Questa sequenza è una sequenza numerica, è una sequenza numerica, credo voi insegnate le sequenze numeriche anche, no? Queste sequenze numeriche, ci sono degli esercizi per fare queste sequenze o anche dette come fossero dei numeri di telefono, amplificano questa emissione di luce e esistono sequenze per tutto. Per la personalità autoralizzata è questa qui, 191317481901. Questa sequenza detta durante la giornata sostituisce il nostro schema biologico di quel momento, cognitivo di quel momento, con uno schema di una persona che invece ce l'ha fatta, che è sana, che è giovane, che è eterna, che è realizzata. E quello schema influenza tutti gli aspetti della realtà che uno vive in quel momento. 191317481901. Questa è la sequenza della personalità autoralizzata. Grabovoi dice che è come se fosse la sequenza dei santi, perché un santo è una persona che non ha bisogno di niente, nel senso che ha realizzato tutto. In questo libro troverete anche una spiegazione sul funzionamento delle sequenze numeriche, perché le sequenze numeriche hanno una valenza molto importante nella tecnologia di Grabovoi. Vi ricordate quando prima abbiamo parlato dell'esistenza del macro livello, cioè di considerare il pianeta quando noi facciamo le cose, no? Nel momento in cui noi consideriamo il pianeta è come se attingessimo a un campo di energia molto vasto. Utilizzando le sequenze numeriche, non c'è neanche bisogno di fare più questo, perché la sequenza numerica contiene già di per sé l'armonia del macro livello. È una traduzione matematica di luce quantistica che contiene in sé l'armonia del macro livello e la normalizzazione di quell'evento lì specifico, dico la sequenza. Per esempio, 1884321 è la sequenza per la normalizzazione della nostra salute. Quando una persona pensa a questa sequenza, non solo sta dicendo al suo corpo di recepire la frequenza numerica luminosa presente in quel numero, ma sta mettendo nelle sue cellule anche la consapevolezza della resistenza del macro livello. Mette un macro livello armonico che fa parte di un sistema di sviluppo eterno del mondo che è stato creato da Dio secondo uno schema ben preciso. Poi attraverso il libero arbitrio noi ci siamo allontanati, anzi siamo andati fuori norma, da questo schema. Ma tenendo presente questo sviluppo eterno del mondo, noi possiamo ripristinare tutti gli eventi. Grazie a tutti.